ciao a tutti ragazzi per me di questo video sto facendo la foto un prezzo beh comunque se non si mantiene allora oggi vi vorrei vedere le cose che ho comprato su una mano sul centro campagna comunque questa cosa ok allora prima cosa voglio ringraziare una ragazza che su Instagram mi ha scritto sono passati su YouTube e comunque si chiama Life is Gymastica e quindi un bacio che adoro allora questa non l'ho comprata grazie è molto gentile mi smagti in sto conto guarda per certo sto più qui ma mettere un po' più e vabbè non mettere l'oltre qui ok solo lo vallo no ecco 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 chi si deve portare chi è comprato su centro campagna perché io sono andata iniziamo da iniziamo da questo comunque questo è il comprato su Amazon perché ve lo volevo far vedere quando mi sono arrivata ok ragazzi allora questo come si usa tu te lo metti in testa un tuo amico un tua sorella se hai qualcuno che fa prendi una pallina e che fa se la butta così io sta molto cioè non molto lontano quanto lontano vuoi tu e fa tipo boom e anche comunque questa cosa mi piace molto perché è veramente buona di tutta la coniglia poi ci sono altre cose che dopo vi faccio vedere i capelli sono un po' fatti perché vi è molto allora poi questa cosa è per mia mamma visto che lei viene in yucchiari mi ha detto che lei viene in yucchiari e se li deve mettere anche per sciare usa questo quindi una cazzo e 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 poi c'è questa è mia sorella che si illumina anche mi chietta allora ragazzi io non ho preso niente perché non ce la può prendere quindi ho preso solo delle caramelle che sono finita e questo si illumina è troppo carino guarda ah bene questa qua poi iniziamo la scarpa allora la scarpa ragazzi la scarpa ragazzi è un elemento fondamentale perché è un'unica no io amo un'unica guarda anche lui anche lui sta dicendo oddio 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 quando ero piccola vabbè quant'è che lui dice che amici mi chiede che è un'unicorno per me mi chiede che non è il mio dico non è il mio dico non è il mio vabbè questa è la mia non sa cosa fa che si può e poi i b e vabbè l'unicorno è che si ma questa è scarta non fassero questo si non si vede molto bene io amo questa parte oh non ho mai visto questo aspetto ok ragazzi aspettate un attimo che vado a prendermi le altre cose vabbè comunque questa scarsa io l'amo perché è troppo ah beh scusate per le pratate in Italia allora ragazzi poi questo era la fine che ha fatto la caramona di Staggit ok va a prendermi le altre cose va a prendermi le altre cose va a prendermi le altre cose a vera che si vede per me a prendermi le altre cose scusate scusatemi ragazzi spero di spiega comunque non ho visto fatto niente vabbè comunque sanno ah e per l'ultima cosa voglio farvi schifo voglio farvi vedere questo slime guardate questo ricordate perché da perché ho un po' a far fuori allora e poi c'è un po' a far fuori mi ha pensato che questo slime è troppo bello perché questo non l'ho fatto io me l'ho fatto una tela mi ha detto che è stato come mia amica ho detto decidi di che splendere la vita mi ha detto con questo perché sapevo come io amo questo slime e si chiama aria e se negli occhi si prendi e poi la tela comunque risultate mi lo amo vabbè comunque questo è il video questo è il video che ho fatto quindi mettete un bel mi piace yeah quattro quattro mettete 10 invece no anzi non stiamo mai si no se voi fate attenzione perché di questa con visualizzazione bravo oh no capriamo yeah 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 sai le ragazze anche gli occhi non sono scelta comunque questo è il video spero che vi sia venuto un bacio ciao ragazzi